buongiorno questo video è dedicato principalmente agli utenti di veritas vincit ma spero che anche gli altri possano trarre qualche spunto di riflessione dobbiamo ringraziare questa pandemia del coronavirus che ci ha obbligati o perlomeno molti di noi si sono sentiti obbligati a riflettere sull'alimentazione su quello che stiamo mangiando sul nostro rapporto con il cibo in modo particolare per quanto mi riguarda sul nostro rapporto con gli animali che rientrano purtroppo da sempre nella dieta di tutti i popoli di tutte le epoche ma solo di recente si è acceso un dibattito sulla questione del vegetarismo e del veganesimo ovvero se sia necessario o meno eliminare i prodotti carnei la carne e i suoi derivati dalla nostra alimentazione e perché farlo oppure perché non farlo purtroppo vedo che anche sul mio blog veritas vincit questo si dimostra un argomento molto divisivo non è solo sul mio blog che succede ma già da anni in tutti i siti internet ci sono delle fiammate su questo tema dell'alimentazione vegana c'è una parte della società in italia nel resto del mondo che odia è proprio il verbo giusto verbo odiare odia i vegani e i vegani a loro volta quando si sentono investiti da questo odio si chiedono perché e vanno alla ricerca di spiegazioni comunque ritornando al dibattito vivace che si è verificato in questi ultimi giorni sul mio blog io ho degli utenti onnivori che mangiano anche carne e ho degli utenti vegani fra i quali io entro rientro come categoria cerco però di razionalizzare il tutto allora se noi siamo dotati di libero arbitrio ciascuno di noi ha diritto di esprimere le proprie opinioni scusate che spengo il cellulare che qualcuno mi disturba ecco e quindi le opinioni sono lecite ma bisogna distinguerle dai fatti allora quello che io voglio spiegarvi ora voglio mostrarvi alcuni fatti i fatti sono indiscutibili le opinioni vanno bene possono essere di qualsiasi tipo ma se stiamo parlando dei nostri rapporti con gli animali cosiddetti da carne che vivono delle vite terribili all'interno degli allevamenti noi dobbiamo considerare che questo è un fatto questa non è un'opinione voi non potete dirmi non potete accusare i vegani di essere dei talebani estremisti fanatici perché questo è un fatto cavalli che vengono imbragati e fatti scendere dalla nave per essere avviati alla loro destinazione finale che è il mattatoio questo è un fatto si tratta di porsi di fare delle scelte di porsi di fronte a questo fatto in una maniera o nell'altra gli onnivoli dicono ma cosa volete la catena della vita i predatori le prede è sempre stato così abbiamo sempre mangiato carne il più forte mangia il più debole ok però dovete anche voi onnivori prendere in considerazione l'idea scusate che ci sono anche degli esseri umani che rifiutano tutto questo questo non lo possiamo accettare perché non è tollerabile la nostra coscienza il nostro senso etico ci dice che questo non è bello non è carino quello che stiamo facendo non è una cosa degna di persone che pensano di essere civili superiori e mettono i polli in batteria in questo modo per sfruttare le loro uova o la loro carne non è una cosa carina quando noi vegani diciamo gli onnivori guardate state sbagliando e ci fate veramente provare rabbia a volte usiamo dei toni anche pesanti tipo speriamo che arrivi un asteroide che distrugga l'intera umanità speriamo che arrivi una vera pandemia non come questa finta di adesso quando noi diciamo questo gli onnivori i mangiatori di polli mangiatori di carne probabilmente questa è una mia ipotesi una mia opinione si sentono toccati nel vivo sentono che li mettiamo con le spalle al muro cioè mettiamo un dito nella piaga aperta la loro coscienza ammesso che ne abbiano una rimorde e quindi rifiutano quello che viene detto loro cioè che sarebbe auspicabile anche per la loro salute abbandonare il passato le tradizioni culinarie di cui spesso soprattutto in televisione sentiamo che se ne parla come di un vanto come se fosse una cosa di cui vantarsi abbandonare tutto tutto questo dare un taglio netto con il passato sanguinario che abbiamo alle spalle come si fa ad accusare i vegani di essere fanatici estremisti quando qua si capisce benissimo chi sono i carnefici e chi è la vittima lo si capisce anche un bambino lo capisce qua siamo di fronte a un soppruso a una violenza a una sopraffazione non ci sono santi non è possibile mettersi a discutere dicendo voi vegani siete fanatici talebani estremisti questo è male il male con la m maiuscola il male se vogliamo diventare come specie una specie veramente superiore agli altri animali dobbiamo dimostrare la nostra superiorità ma non con la forza con il sopruso abbiamo la forza di farlo e quindi lo facciamo dobbiamo dimostrare la nostra superiorità con la maniera più etica giusta corretta che siamo in grado di manifestare perché queste scene non questa fotografia che non è stata fatta nella foresta dove vivono i cannibali questa foto è stata fatta nel civilizzato occidente queste scene noi non le vogliamo vedere perché sono offensive offensive per l'intelligenza umana non ci sono santi non è possibile discutere su questo a costo di apparire intransigenti e fanatici su questo deve essere chiaro per tutti non si può discutere non è una cosa bella prendere una mucca che già stanca per ore e ore di viaggio sulla nave o dentro dentro i camion prenderla per una zampa posteriore e sollevarla di peso perché lei con le sue forze non ce la fa quindi è inutile stare a girarci intorno questa è pura malvagità e se questi sono gli esecutori io mi rivolgo in questo momento ai mandanti a tutti quelli che si siedono a tavola che fanno anche parte dei dei miei utenti del blog si siedono a tavola e non trovano nulla di strano a mangiare una bistecca di mucca e naturalmente quando qualcuno gli sbatta in faccia la realtà ecco che cominciano ad andare in tilt cominciano ad entrare in crisi nei giorni scorsi sul mio blog io torno sempre lì c'è stato questo schieramento due due tribù la tribù degli onnivori la tribù dei vegani e siamo abbiamo rasentato gli insulti e le offese e comunque si sentiva il rancore da entrambe le parti io dico sì sperare in un futuro di pace di serenità di amore fra tutti gli esseri è bello però obiettivamente in questo momento stando così le cose è un'utopia e le utopie purtroppo sono il contrario del pragmatismo ma io in questo momento che cosa sto facendo sto facendo sto minacciando qualcuno di morte sto offendendo qualcuno vi sto solo sbattendo in faccia la realtà sì questo sì ma non sto offendendo gli onnivori quindi siamo ancora nel mondo delle parole io ancora spero che ci sia da parte dei carnivori degli onnivori una resipiscenza ovvero sia una piccola fiammella di coscienza che li spinga a fare delle scelte autonome non perché lo dico io non perché lo dicono i vegani ma per una vostra decisione intima e personale vi diamo tutto il tempo che volete ne avete anche avuto tanto a dire la verità di tempo riflettete amici onnivori amici carnivori spero di esservi stato utile e ci sentiamo al prossimo video grazie a tutti per l'attenzione